Buonanotte, questo è il messaggio degli angeli. Allora, il messaggio è l'imperatrice, è la numero 3. Arcangelo Gabriele Grande abbondanza, dai vita ai tuoi sogni, arricchisci te stesso e gli altri. Secondo questa carta, la tua creatività è il duro lavoro che ti stanno dando grandi ricompense. Hai proprio il tocco di Remida e fiorirà tutto quello a cui presti la tua amorevole attenzione. In questo momento il matrimonio, i figli e le questioni legate alla maternità o paternità, se siete uomini naturalmente, e alla creatività vengono influenzate positivamente. Sia che tu stia cercando di dare alla luce un bambino, di accudire piante, animali domestici o di favorire lo sviluppo di un nuovo progetto di lavoro. I tuoi sforzi creativi avranno un grande successo. Godi delle belle cose della vita, nella certezza di meritare di averne in abbondanza. Prenditi gran cura del tuo corpo con dei massaggi, lo yoga o altre pratiche che ti facciano sentire in salute, vitale e in forma. Questa carta è anche abbondanza. Trascorrere del tempo nella natura, dedicarsi a progetti artistici e creativi. Amare e prenderti cura di te stesso o degli altri. Un periodo di straordinaria salute emotiva e fisica. L'arcangelo Gabriele è l'angelo messaggero che guida e sostiene i genitori adottivi e quelli in attesa, così come chi è coinvolto in progetti creativi. Neonati invoca l'arcangelo Gabriele per dare ispirazione alle tue idee creative e a trovare il coraggio e le occasioni per esprimerle. Vi auguro una buonanotte. Grazie. Grazie.